Ok, ciao a tutti, eccoci qua per un altro Ruby Seas e questa volta guardiamo questo trailer di Pills, cioè praticamente c'è un futuro, c'è un futuro per noi youtubers nel cinema, c'è già stato, ma cancelliamolo perché Favij Game Therapy, insomma è stato un acciofeca incredibile, ma questo The Pills, secondo me c'è qualcosa di molto interessante, del tipo un po' così, un po' dai... Se qualcuno ha bisogno, ho un'effetto che non mi posso divertire, vabbè, insomma guardiamolo Sbaglio! Devo spaccare il mondo, se non facevi niente, devo spaccare il mondo C'è un figlio, facciamo un c***o, ma devi dormire il ciccio, buttalo sui torrentino con quella roba lì, ma che fredda, ma devi ciullarla, ciullarla, non fumarla, ciullarla, ma che freddo, vai dentro l'acqua C'è un figlio, ma che freddo, ti schiazza, oddio Luca, ufff, ma che freddo, ma sui Instagram Vabbè lavorare con loro, bella, faccia e sicuramente tranquilla Vabbè lavorare con loro, c'è lui, c'è lui, vultano che production se c'è lui Vultano se c'è la faccia da borsa, vultano siamo cassinata Vultano le pillole, vultano le pillole, vultano le speranze, c'è speranze per il Gino E che c***o? C'è un gag La bebbe serie La bebbe serie Ma che sta dì? Turbo frame Santo Dio, ce ne posso fare anche io a qualcuno mi chiami per fare un film Santo Dio, chiamatemi per fare un film Santo Dio, chiamatemi per fare un film